Era un grande sogno quello di arrivare ad essere sindaco di Petilia Policastro. C'è da registrare che Simone Saporito ha avuto l'esperienza in provincia per quasi un anno dove ha dato ampia prova della propria bravura e anche della grande professionalità con cui ha affrontato man mano i problemi dell'ente. Dalla provincia al comune. Sì, dalla provincia al comune è passato in mezzo quasi sei mesi di commissariamento in cui il comune di Petilia è stato gestito dal dottore Mannino e da due subcommissari dottoressa Moret e dottoressa Cataldi. Siamo arrivati in questa campagna elettorale un pochettino in attesa perché ad agosto quando è uscito il decreto del Ministero dell'Interno c'era incredulità nel fatto che Petilia fosse all'interno del decreto e quindi anche Petilia venisse chiamata al voto. C'è stata subito la corsa ai preparativi, quindi le riunioni politiche in una fase in cui i partiti qui a Petilia sono venuti meno. Ci sono state delle grosse difficoltà per formare le liste, soprattutto perché il mese estivo di agosto vede parecchi petilini andare fuori per le vacanze, quindi è stato un periodo abbastanza duro che però ha portato a buoni risultati. Il sogno si è realizzato, penso che quasi tutti i bambini pensano un giorno di poter dare il proprio contributo e di vestire quella fascia da sindaco per dare al proprio paese il proprio contributo. e penso che questo sia un sogno che sia avverato soltanto grazie ai cittadini, a questi grandi cittadini che hanno con grande entusiasmo seguito i nostri comizi, ci hanno invitato a scendere in campo, ci hanno invitato a non restare a guardare, ma a coprirci di responsabilità e dare il nostro contributo spontaneo, sincero, disinteressato alla cosa pubblica. Qual è il grazie che ti viene dal cuore per gli elettori? Beh, il grazie a tutti gli elettori, un grazie sincero perché abbiamo visto un entusiasmo trainante, un entusiasmo che molti petilini mi dicono non si vedeva per le strade, nel paese ai dei tempi del compianto sindaco Maiconangelo Tavernese, quindi parliamo alla fine anni 90, primissimi del 2000 e quindi proprio a lui abbiamo deciso di dedicare questa vittoria e soprattutto ripartire perché in quegli anni ci fu un cambio generazionale anche di classe dirigente, politico-amministrativa qui a Petilia Policastro, più o meno quello che sta avvenendo in questi giorni. La nostra squadra è una squadra di persone che non hanno mai amministrato il comune di Petilia, quindi il cambio generazionale c'è stato, adesso vedremo i frutti. Grazie. Grazie.